Ciao a tutti, io sono Paoli e per questo video oggi faremo un roll più uno SPAC OPENING SPAC OPENING E che senti? Se dice PAC OPENING, che vuol dire SPAC OPENING? Spacchiamo i pacchi? Sì, è l'ene... polinesi... Beh beh, hai capito Che devo fare a si rollare? Ovviamente le gemme non sono scioppate Ho detto il mio caso a sto essere È in forma di carta, vero? Sì Adesso fai te perché te lo meriti 50 Porta sfiga Porta sfiga E che pifo, impegnati 3 Ok, vada bene Wow Fai ancora 3 da 1, 1 da 3 e poi rollo io 1 Perché ti ricordo che sei in posizione che mi hai fatto la bianca Non esce nulla Sto per risultare il mio titolo è brinzolato Brizzolato, non brinzolato Vabbè... Sai che cosa vuol dire almeno? Sì Che vuol dire? Che è il mio titolo grigio Perché l'ho detto io? Ma va Rola piano Vai Ci uccideranno Ah no, con te sono sbagliato Wow, campio Per adesso io sono due leggendari Hai veramente contato i gg quando ero detto di darti un po' di fortuna Merda C'è qui lo sfogo proprio Prova a... No, questa no, questa no Prova a rollare le ultime gemme sotto forma di... No Ah, ok Tieni, zucca, ti sacrifico i miei eroi quotidiani Ok, abbiamo eliminato la spazzatura Quota 50 Ok, vai Posso fare l'ultimo Sì Siccome ho fatto l'ultimo Noi non guardiamo Queste link Sei veramente Un portafortuna Esatto Beh, almeno Folletta ti mancava Sì Sei contenta o scontenta? Scontentina Apriamo subito Sì E cosa fa Folletta? Si ricarica Si toglie delle merce agli eroi Poi tipo se... Gente... Un test che la skill attiva Gliela toglie Perché disabilita i buff Tutta... I buff? Sì I buff Sì Problema di prendere tutti assieme Ah, massimo apri 10 Eh sì Apri 55 Cos'è? Fingata Non ne mai Qui di fretta che fanno un po' schifo Sì, tanto sono normale Sorellina torna qui Ti faccio poi rollare sull'inglese Ti ho detto che partecipavi No Come no? Mi porti fortuna Perché non mi fai apri 10? Sì Ho interpretato il pifero Meno male che abbiamo pure il wifi potenziato Eh Ma sono nelle grandi città Non è vero Tua madre ha detto anche qui Praticamente niente di nuovo Appunto, tutti i doppi Vai vai Apri 10, su Io ti provo a apri una alla volta Non dire cagata È meglio aprirli così Sì Sì, è bello vedere se tutti Anche quello è leggendario Sì No, solo le prime per 10 Poi voglio riprendere lentamente Mh Vecca male Apri 10 C'è noi Apri 1, eh Ora mi sono stancata Fu di 4 Fu di 4 buono Adesso finisci di aprire quegli altri emblemi Ah sì, che questo l'avevo dato mi sembra da te Apriamo le casse Sì Te li danno a di livello 2 Davvero? Sì Ma se le conosco da prima di te le casse Credo Ma non credo siccome io ho iniziato prima a giocare Sì, ma non capivi le missioni U, due nuovi emblemi, bello Non ho mai aperto di quell'elite Né di quelle leggendarie E' una dispersione Io ho aperto addirittura Un' dispersione Uno scrigno normale Se era bello mi venisse tutta la dispersione Di livello 3, pensa un po' No, è meno che ho più pesato C'eravamo quasi Mi prende gli scatti Bene, confesso che è meglio il cibo, sorellina Che stiamo anche registrando Ma mira, già non ti ho detto che è giusto Vabbè Apri 10? Sì, sì, sì Beh, due carte già nel talento, dai E due mostri che c'è tanto Manca ci sei una carta leggendaria Puoi uscire da qui? Sì Dai Streghimi la mano Mi fai male però così Sì We are the champions My friends Censuriamo stai stessa Sì, infatti Adesso cos'è? Un'altra? Grazie a cielo, no Apriamo prima il messile Posso farla io? Io trovo droidi Cupido E per la seconda Ce ne manca uno Che sto facendo? Deve aprire l'altro Ti consiglio di fare apri per tre No non ci Fidati La mia delusione è pian pianino Mi manca Ma vai a fare Tanti auguri per il tuo compleanno Oh grazie E mi chiamo Polly Io del buono una cacchetta E aspettare che aspettare L'aggiornamento Per trovare un altro cavo di arteschio Utilizzo Cioè prima i non frammentabili Erano praticamente impossibili da trovare Lo sai Ma sarò le più di 6.000 gemme Nelle carte leggendari Dico Guardiamo i talenti di Pixi And Trentavolo Questa era da zucca Però eh Gli dobbiamo trovare di queste Se vuoi Tanto quegli eroi lì Non li userò mai Ah Se partì già con questo piede Com'è anche stregone Li ho trovati Alla buon'ora Ehi mi sono diventati gli eroi Sì e te ne sei sbattuto il chip Quando li hai trovati Non li potete nemmeno Ma va bene Andiamo a rollare sull'altro account Adesso rolliamo sull'altro account Stai registrando vero Nooo Ah Sono raffreddato povero me Anche io sempre questo Adesso faccio io perché Ti ricordo che sei in punizione Ma ficca me la suda un certo buco la tua punizione Vedi sei una sfigata Mi mancava Non ti esce niente Style Vabbè Mi fai fare un paio di rollate Ti prego Ne fai tre da uno Una Due Non esce in un cazzo Adesso chi era Fortunella Siamo Siamo due a due comunque Apri la carta di finimese prima Giusto Dov'è? Vai lì Mi è eccita questa carta con zucca Mi mancava Mi mancava Ti avevo spedare un infarto Sì Io ho trovato sei zucche comunque Bastardo Hai visto grazie a me Hai trovato zucche Perché ti hai detto Bella questa carta con zucca Ed è uscita zucca Hai visto che hai porto fortuna Sacrifichiamole tutto Ah no aspetta Dov'è forse il dracolo Proprio Mi conviene forse il talento di popò E c'è una strana Un'isterica nel mente Nel titolo scriverai Mio fratello prevede il futuro Punto esclamativo Epic roll più carte leggendari varie L'hai già detto adesso Oh hai ancora gli scrigni fortunati Magari esce una carta leggendaria No Mi esce Usa L'ennesima carta così Perché non usi una prezzucca Magari ti porta fortuna Sai Un furia 5 Un rigenerazione 5 Fallo per noi Speriamo di trovare qualcosina Che suono inglese e come emblemi Faccio pena E tienimi c'è lo sto microfono Tranquilla zia fiera Si sente Non attaccata la bocca Ok Ragazzi come potete vedere No parla noi Sto trovando un bel po' di emblemi nuovi Vabbè quattro emblemi cos'è Ora se il video raggiunge 15 minuti Te lo tieni La passa due del metà Vabbè emblemi uguali Che cacca Spero me ne vengono circa diversi Se no mi arrabbio Ma vaffan Chiappa Che cos'è questo? Usiamo Non ho mai aperto uno in vita Mio sinceramente Hai fatto bene perché è una cacca Si 18 nuovi emblemi I miei begli eroi Termina il video Beh Termina Abbiamo anche i secondi account Vuoi rullarci? No Lì sono per i loro più corposi Beh detto questo vi salutiamo Io sono Polly Iscrivetevi al mio canale Lui è Non lo dico per non farmi pubblicità Pietro Super Games Che non mi sponsorizza mai E una volta nonostante sia mio fratello Detto questo vi salutiamo Spero che Di vedervi alla prossima C'è un po' difficile che mi veda Prossimo voi vedete C'è i miei video Vabbè Ciao 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 Ciao